nuova questura ricci propone due aree edificabili pronto soccorso parte il presidio con guardia armata donna di genio ecco la vincitrice del concorso di terziario donna calcio si ferma la striscia della vis il fano esonera gioffrè una buona serata a tutti voi telespettatrice telespettatori di rossini tv che ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news comincia un'altra settimana con la nostra informazione serale in questo che il nostro telegiornale che in questo lunedì 8 novembre apriamo occupandoci della nuova questura di pesaro un progetto di cui si parla da anni ma che è stato nuovamente azzerato dopo la decisione dell'agenzia del demanio comunicata al comune di pesaro di fare dietro fronte sull'ipotesi dell'ex intendenza di finanza ora però emergono nuove possibilità su dove realizzare questa nuova questura possibilità che sono state illustrate oggi dal sindaco di pesaro matteo ricci da oltre un lustro la questura di pesaro urbino cerca una nuova casa ed è una ricerca che riparte da zero dopo che l'ultimo piano di trasloco è naufragato su una comunicazione recapitata dall'agenzia del demanio al comune ovvero quello della destinazione nella sede dell'ex intendenza di finanza ancora in pieno centro storico costi esorbitanti e un cambio di direzione al demanio l'hanno resa una soluzione non più percorribile secondo l'agenzia a cinque anni dal primo protocollo d'intesa dedicato alla nuova questura dunque si riparte da zero e si riparte con l'idea di fare la questura del tutto nuova dopo giorni di polemiche politiche sia dall'opposizione di matteo ricci sia dai sindacati di polizia per un'incompiuta che continua a trascinarsi il primo cittadino ha convocato questa mattina una conferenza per illustrare le ultime e le prossime linee d'azione ma intanto la premessa che di un bene dello stato si dovrebbe occupare lo stato nei suoi vari ministeri con l'agenzia del demanio nonostante questo in questi mesi in questi anni ho cercato di aiutare a trovare una soluzione siamo riusciti ad ottenere un finanziamento rafforzato fino a 6 milioni e 2 per sistemare l'ex intendenza di finanza c'è stata molta lentezza da parte dell'agenzia del demanio regionale nel portare avanti il progetto complicazioni nate nel percorso autorizzativo anche con l'intervento della sovrintendenza però eravamo arrivati alla fine finché l'agenzia del demanio che nel frattempo ha cambiato i vertici nazionali ha cambiato strategia e ritiene molto più funzionale fare all'ex intendenza di finanza gli uffici come era previsto precedentemente quindi la buona notizia è che l'ex intendenza di finanza verrà riqualificata forse anche più velocemente del previsto per farci uffici pubblici un bene chiuso da decine di anni la notizia negativa è che non c'è luogo per fare la sede della questura dunque l'ex intendenza di finanza verrà ristrutturata sì ma non per la nuova questura nel frattempo il comune si è dato da fare per trovare terreni alternativi all'obiettivo iniziale una ricerca che si è ristretta a due siti uno in zona celletta santa veneranda l'altro in una zona torraccia che ospita già diverse caserme di forze dell'ordine ho chiesto all'agenzia del demanio se potevo dare una mano a un piano b l'agenzia del demanio ha provato di nuovo sui locali della caserma ma il ministero della difesa ha chiuso ancora una volta le porte e l'unica possibilità che loro vedono è quella di terreni comunali sui quali di cedere il diritto di superficie e urbanisticamente già a posto cioè dove terreni dove nel piano regolatore siano previste strutture a servizio pubblico per almeno 5.500 metri quadri fatta questa ricerca che ovviamente ha stretto al minimo tutte le possibilità sono emersi due terreni del comune uno vicino al palasport e l'altro vicino al nuovo casello di santa veneranda per la realizzazione della nuova questura noi siamo disponibili a mettere a disposizione questo terreno ma la palla adesso passa a chi ne ha competenza perché non è un tema che riguarda il comune ma è un tema che adesso deve riguardare la prefettura la questura e l'agenzia del demanio se decideranno che uno di quei due terreni può andare bene noi andremo in consiglio comunale discuteremo in consiglio comunale sul diritto di superficie venerdì scorso vi abbiamo mostrato la manifestazione di protesta di medici e infermieri del pronto soccorso di pesaro all'indomani dell'ennesimo episodio censurabile di aggressione e violenta nei loro confronti da parte di quelli che teoricamente dovevano essere semplicemente dei loro pazienti al punto di emergenza violenza e manifestazione che hanno prodotto l'effetto di un presidio di sicurezza fisso che è stato approvato già a partire da questa sera dalle ore 22 di sera alle 6 del mattino il pronto soccorso di pesaro sarà protetto da un presidio di sicurezza fisso con guardia giurata armata e questo da oggi l'effetto collaterale prodotto dall'ennesimo episodio di aggressione ricevuta mercoledì scorso da medici e infermieri del primo soccorso dell'ospedale san salvatore di pesaro un'aggressione traccimate in un settim di protesta nella mattinata di venerdì amplificata agli altri ospedali marchigiani una manifestazione alla presenza tra gli altri del prefetto tommaso ricciardi del questore michele todisco e dall'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini operatori del pronto soccorso troppo vulnerabili e sottodimensionati nel personale per conciliare un maxi afflusso di accessi al punto d'emergenza ora però inizia il presidio con guardia armata con la prospettiva di ampliare il servizio h24 su pesaro e su fano una volta individuato il personale di sicurezza dedicato una richiesta che nicola baiocchi oggi consigliere regionale propose da consigliere comunale di pesaro nel 2019 ma la mozione fu respinta meglio tardi che mai sicuramente non è che erano tempi non sospetti perché era un periodo dove già c'erano state diverse aggressioni all'interno del pronto soccorso in generale all'interno dell'ospedale di pesaro è un problema che riguarda tanti nosocomi della nostra provincia della nostra regione e quindi chiesi con una mozione di indirizzo insieme ai consiglieri marchionni giulia ed emanuele gambini di approvare una mozione di indirizzo affinché marche nord chiaramente di concordata con la regione marche con la regione marche introducessero una postazione h24 fissa di un di personale magari anche di polizia privata armata finché ci fosse veramente un'attività di deterrente all'interno di di questa postazione di questo di questo ospedale perché ormai è diventato una terra di nessuno dove questi operatori oltre a dover supportare il gravissimo peso legato all'emergenza cove tutto quello che stanno sostenendo devono anche difendersi dall'aggressione di questa povera di questa gente che non ha veramente neanche rispetto per il lavoro di queste persone all'epoca la mozione fu bocciata per un problema di carenza d'organico nelle forze di sicurezza o per una problematica strettamente politica deduco una problematica strettamente politica perché un'amministrazione un'amministrazione di marche nord avrebbe potuto benissimo già quel periodo introdurre quello che ha fatto finora in questo momento perché era un problema che era già abbastanza abbastanza sentito da tutti quindi fu un problema strettamente politico anche perché in regione c'era la setta parte politica del consiglio comunale che forse non si sentiva di vincolare la regione su una cosa che poi effettivamente era una cosa molto semplice da introdurre e purtroppo continuano a crescere i ricoveri da covi 19 nelle marche il report giornaliero racconta infatti di 94 pazienti indegenza ospedaliera di cui 24 in terapia intensiva una crescita costante visto che solo ieri i ricoverati erano 88 e 82 tre giorni fa con tre casi di terapia intensiva in meno restano sostenuti anche i contagi 73 nel giorno tradizionalmente con meno tamponi quello successivo al weekend per una percentuale di positività al contagio del 9 per cento e un'incidenza di 66 casi ogni 100 mila abitanti che mette in discussione lo status di zona bianca della regione marche oggi si è registrato anche un decesso si tratta di un uomo di 89 anni di valle foglia cambiamo argomento parliamo di lavoro di lavoro creativo e di una creatività che è tutta alle femminile un estro e un intuito meritevoli di premio quello di donna di genio il riconoscimento promosso da terziario donna di conf commercio che oggi ha appunto consegnato il premio alla vincitrice dell'edizione 2021 vediamo di chi si tratta nel prossimo servizio è monica martinelli la donna di genio 2021 l'imprenditrice della 79 edizioni di cagli è stata premiata questa mattina nella sede di conf commercio di peso rubino nell'ambito del concorso annuale organizzato da terziario donna che valorizza chi si è distinta per creatività imprenditoriale al femminile la giuria di concorso ha premiato la martinelli fra sei finaliste ovvero nicoletta tagliabracci ambasciatrice dell'enogastronomia territoriale eleonora antonelli e michela valdinocci ideatrici del progetto il grano e la zizzania orto sociale culturale claudia corbucci titolare di tisana parafarmacia olistica giuditta mercurio ideatrice del progetto allenarsi al benessere per le pazienti con pregresso carcinoma mammario e malgorzata maria bartman titolare del progetto negozio soap gosia prodotti cosmetici e per l'igiene rispettosi dell'ambiente sono state selezionate sei imprese è stata una scelta difficile perché erano tutte molto molto brave e in vari settori dalla cultura all'enogastronomia per cui queste queste donne sono ricoprono un po vari settori e abbiamo dato questo premio per la monica martinelli perché abbiamo pensato che è un premio innovativo riguarda l'editoria al femminile e soprattutto anche un'editoria particolare che parla che diciamo vuole entrare in quel difficile settore che la violenza delle donne sulle donne e per cui ci sembrava veramente un premio giusto ecco la vincitrice del premio donna di genio 2021 il premio del terziario donna e monica martinelli che è la titolare di 79 edizioni una casa editrice che ha sede a cagli allora innanzitutto complimenti raccontaci un po di questa casa editrice perché si chiama 79 sì 79 è una casa editrice nata a cali nel 2013 e il nome deriva da una da una convenzione internazionale per noi molto importante nel 79 è stata emanata la ceda che è la convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione violenza contro le donne che per la prima volta individua lo stereotipo di genere come seme della violenza 79 una casa editrice che fin dall'inizio si occupata di contrastare la discriminazione e la violenza di genere attraverso i libri per l'infanzia attraverso strumenti educativi narrativa tutto legato mondo al mondo molto al mondo della educazione della formazione e lavoriamo proprio sui sui pregiudizi sugli stereotipi di genere quindi riteniamo che questa convenzione sia proprio un inizio che purtroppo è rimasto ancora poco attuato insomma deve essere ancora implementato ma anche noi lavoriamo per questo invitiamo patrizia le donne che hanno un'attività imprenditoriale particolare oppure le amiche a iscriversi per la prossima edizione certo e vi invitiamo per la prossima edizione del 2022 a iscrivervi perché noi appunto cerchiamo sempre imprenditrici di genio che vogliono che vivacizzare il nostro territorio e essere con noi con il nostro terziario donna per cui speriamo che vi che queste imprenditrici possano portare un bellissimo apporto arriva a pesaro un nuovo festival dedicato alla cucina di pesce della città si chiama mare magnum e sarà in piazza del popolo sabato 13 e domenica 14 novembre ad annunciarlo sono stati gli assessori vimini franquellucci e morotti per un festival che coinvolgerà il pubblico di pesaro collaboratori dibattiti sulla filiera etica incontri con biologi marini show cooking e sfide a base di passatello al pesce che recentemente è stato etichettato come la prima deco di pesaro che sarà la grande protagonista negli stand gastronomici della piazza da pesaro passiamo a urbino perché sono ben 13 docenti dell'università inseriti nella world top scientist list di questo 2021 classifica che annovera ricercatori di tutto il mondo che hanno pubblicato articoli capaci di accelerare il progresso nel proprio settore e influenzare fortemente l'attività di altri studiosi i 13 e docenti dell'università di urbino sono magnani mannello farina molica bisci servadei stefanini cappiello bernardo bogliolo ferretti tarzia sestili e casettari non solo a pesaro ma anche a fano la lotta all'inquinamento allo scarso senso civico diventa sempre più tecnologica grazie all'installazione di altre 10 telecamere che si aggiungeranno alle 50 già attive sul territorio per scovare quanti lasciano a terra in maniera indiscriminata rifiuti di ogni genere l'implementazione della videosorveglianza consenterà così di aumentare i controlli nello specifico in via cappellini vittime di nassiria kennedy comunale di croce elevata 22esima strada strada nazionale sud via aldomoro via nazario sauro via motta via comunale delle cerette a carignano e sempre a proposito di rifiuti il video che vi mostriamo ora si riferisce al sopralluogo di ieri dell'assessore all'ambiente del comune di montelabate pier luigi ferraro dopo la segnalazione di una discarica a cielo aperto creatasi in parte del territorio comunale comune che fa sapere che marche multiservizi è stata allertata per la rimozione dei rifiuti un altro video ci arriva da cantiano dove questa mattina si è conclusa la seconda delle sei esplosioni controllate necessarie per poter completare il distacco di parte del costone di roccia che sovrasta la strada statale flaminia e la diacente strada comunale mercoledì scorso vi avevamo mostrato la prima esplosione mentre la terza è prevista tra due giorni ovvero mercoledì attorno alle 11 di mattina le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece all'albero di natale di pesero che da venerdì ha messo radici per così dire in piazza del popolo si tratta di una bete di 40 anni di 16 metri tagliato da via michetti a villa san martino per problemi di sicurezza che stava creando a strada e fognature oggi sono partite le operazioni di sistemazione e allestimento in vista dell'addobbo con 100.000 led che lo illumineranno a partire da sabato 27 di novembre e dunque aspettando il natale c'è invece una manifestazione che è tornata a caratterizzare il mese di novembre parliamo della mostra mercato dell'olio ed oliva il festival cartoceto dop che ieri è tornato con la 44esima edizione dopo un anno di stop per covid ieri appunto la prima delle due domeniche previste che è stata ripresa dalle telecamere di rossini tv che realizzato uno speciale che potrete vedere in versione integrale venerdì prossimo alle 21 e 20 nel frattempo vi forniamo un'anticipazione nel servizio realizzato da francesca tricca Dopo aver dovuto annullare l'edizione 2020 a causa delle restrizioni sanitarie dovute al covid-19 torna il 7 e il 14 novembre 2021 la Kermess dedicata all'oro verde delle marche Quest'anno siamo ripartiti con il solito format festivaliero perché se è vero che si tratta di una storica manifestazione che quest'anno compie 44 anni ma è pur vero che dal 2014 abbiamo voluto rieditare sulla base di questa nuova formula festivaliera per l'appunto la storica mostra mercato arricchendola con tante attività di carattere artistico e musicale e che ci hanno dato ragione in questi anni perché hanno fatto sì che potessimo intercettare davvero tanti target di visitatori che magari mai sarebbero venuti a Cartoceto è chiaro che il cuore pulsante resta sempre la nostra eccellenza agroalimentare negli stand dei produttori che sono qua alle nostre spalle ricordiamo essere tra l'altro l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche, la DOP Cartoceto e ricordiamo ancora, l'abbiamo già fatto prima durante il taglio inaugurale che la DOP Cartoceto non collima soltanto con il nostro territorio, cioè con il territorio di Cartoceto ma ricomprende all'interno anche parte del territorio fanese, il territorio del comune di Bombaroccio e il territorio del comune di Colli al Metauro quindi sicuramente una DOP che può ancora esprimere tante potenzialità all'interno del territorio regionale e nazionale e sono sicuro che lo farà assieme ai suoi produttori negli anni a venire finalmente c'è una ripresa di attività non solo ovviamente qui in Cartoceto ma in molti luoghi anche di questa provincia e della nostra regione si mettono in evidenza le bellezze e le specificità che ci sono sui territori e dicevo prima col sindaco di Cartoceto io sono assessore all'ambiente mettendo in evidenza quanto di buono viene prodotto, coltivato nei nostri territori nelle nostre campagne, nelle nostre colline i prodotti tipici, la naturalità di questi prodotti spesso biologici o comunque a bassissimo impatto ecco, sono un qualcosa che arricchiscono il territorio, arricchiscono la nostra regione ma fanno cultura, fanno proprio, diciamo così danno un senso anche a questa ripresa ed ora il consueto spazio con lo sport del lunedì dopo un weekend che ha sorriso soprattutto alla Megabox Volley e a Little Service ha invece sorriso meno alla Vispesero, alla VL, alla Pesero Rugby e soprattutto all'Alma Juventus Fano che ha deciso di esonerare il suo allenatore dopo sette partite di fila senza sconfitte la Vispesero frena al cospetto della capolista senza strafare l'imbattuta reggiana vince 3-0 a Pesero 1-0 nel primo tempo e Tris che arriva nel cuore della ripresa con la prima in classifica che capitalizza al massimo ogni situazione e al contempo rende inoffensiva una Vis mai realmente pericolosa la partita emotiva a livello iniziale era anche ai punti a favore nostro stavamo conquistando campo facendo qualche corner e poi queste sono le grandi squadre alla prima occasione hanno fatto gol in una situazione dove la palla è stata messa morbida da dietro la reggiana va in vantaggio secondo tempo poi è difficile su questo campo oggi cercare di fare una gara con un senso tattico e con un senso di soluzioni offensive abbiamo cercato di comunque muovere la palla devo dirti che all'inizio del secondo tempo anche lì i primi 20 minuti sono stati fatti veramente bene abbiamo cercato di reagire però dopo la punizione di Lanini la palla inattiva sono episodi veramente che dimostrano quanto la reggiana sia cinica e quanto comunque abbia meritato la vittoria poi il risultato è penalizzante nel numero però poco importa nel calcio di Serie D è invece in caduta libera l'alma Juventus Fano che a Montegiorgio si illude col vantaggio di Casolla ma poi perde 2-1 rimediando la quinta sconfitta nelle ultime sei gare senza vittoria che costa la panchina a mister Carmelo Gioffre ed è quinta sconfitta consecutiva nonché la sesta su sette gare complessive per la Carpegna Prosciutto Basket Pesero sabato sera il compito nella tana della Virtus era di fatto ai limiti del proibitivo la Segafredo ha vinto 88-75 con la VL che ha fatto quel che poteva per restare incollata alla partita arrivando all'ultimo parziale con sei punti di ritardo quarto-quarto in cui la Virtus ha però chiuso la pratica i problemi sono emersi soprattutto durante il secondo o quarto periodo loro hanno una capacità di spalmare quell'intensità di gioco su 10, 11, 12 giocatori che noi fatichiamo un po' a replicare però siamo stati combattivi siamo stati lì vivi il parziale di terzo periodo dimostra venire qua e vincere di nuovo anche il terzo periodo dando la sensazione di essere in gara è un buon segnale dobbiamo mantenere la barra dritta e trovare ancora una settimana di lavoro intensa di qualità sperando che l'infortunio di Jones non sia grave e prepararci a una partita molto difficile sabato prossimo dove dovremo mostrare ulteriori progressi nel calcio a 5 l'Ital Service Pesaro smaltita la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions League si è rebuttata sul campionato battendo 2 a 1 la fel di Eboli al Palafiera grazie ai gol di Borruto e Salas splendida domenica anche per la mega box volley che torna alla vittoria in un match infinito al pala Carneroli di Urbino concluso con il successo 3 a 2 al tie break al cospetto della delta Despar Trentino sconfitta invece per la Fiorini Pesaro Rugby che lotta nel fango del Toti Patrignani ma cede 23 a 29 all'Unione Rugby Capitolina e si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordo però come di consueto la nostra prima serata che comincia alle 21.20 all'insegna dell'approfondimento di medicina del lunedì una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute alle 21.20 si tratta della quarta puntata ospite di stasera è dottor Antonio Padolino che ci parlerà di lussazione della spalla in questo che è un format in collaborazione con Fisioradi Medical Center a seguire un appuntamento di sport da non perdere per gli appassionati di rugby ritrasmetteremo infatti in versione integrale la partita della Pesaro Rugby che si è giocata ieri al Toti Patrignani di Pesaro tra la Pesaro Rugby e l'Unione Rugby Capitolina squadra romana dunque non perdetevi questa sera alle 21.30 che è la partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A e dunque si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News da parte mia non resta che lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata con i nostri programmi